La proposta che nei prossimi giorni verificherò con tutti se è realizzabile è quella di una segreteria in cui si sta tutti insieme in modo unità dove le responsabilità sono in capo a tutti c'è chi ha il dovere di metterci la faccia di tutti ma dove lo spazio di vocazione e comunità c'è se non ci sarà la volontà di farla noi rispetteremo comunque con grande passione e orgoglio il fatto che non tutti la pensino nello stesso modo ma quello che deve essere chiaro è che questo partito se in questo partito qualcuno vuole dare vincita l'avranno in novembre del 2017 se qualcuno vuole lavorare può lavorare domani mattina perché l'Italia è il più grande delle nostre divisioni e la prima cosa è grazie 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 grazie